Nonostante la giornata non ci abbia assistito con la meteorologia, la nostra passeggiata della salute ha avuto ugualmente un buon successo, come si può vedere, da tutti i ragazzi partecipanti. Hanno camminato volentieri, hanno assaggiato i nostri assaggi tipici, pane e olio, pane e miele eccetera e noi ringraziamo gli insegnanti per avere aderito alla nostra iniziativa che noi abbiamo ripetuto per il secondo anno. Questa iniziativa si inserisce nell'ambito della settimana nazionale per la prevenzione oncologica e come dice il manifesto alle mie spalle alimentiamo la prevenzione per sconfiggere il cancro. Se si parte dalle giovani generazioni speriamo che la battaglia abbia un successo maggiore. Quest'anno abbiamo deciso di coinvolgere insegnanti ed alunni dell'Istituto Rezzara. Hanno partecipato tutti gli alunni delle classi prima, seconda e terza media più i ragazzi della quinta liceo. L'insegnante Visini, in particolare insegnante di biologia, ha coordinato tutto il lavoro insieme al nostro gruppo di volontari e pensiamo che la cosa abbia avuto un discreto successo. Ci riserviamo di ripetere questa manifestazione l'anno prossimo magari coinvolgendo un altro istituto e altri ragazzi.